Ciao a tutti dormiglioni, come state? Spero tutto bene. Nuovo video di ASMR al buio, durante il quale cercherò di farvi rilassare, andando a usare cinque oggetti, cinque trigger, che resteranno nell'ombra e voi, mentre provate a rilassarvi, potrete anche provare a indovinare nei commenti quali sono gli oggetti che sto utilizzando. E allora direi di partire subito con il primo, che a mio avviso è abbastanza facile da individuare. Eccolo qui, in tutta la sua magnificenza. Io, come sempre, vi consiglio di ascoltare questo video con le cuffie. Perché potrete apprezzare lo spostamento del suono da una parte all'altra, proprio così. questo suono, oltre a rilassarmi molto, è rilassato molto. mi fa pensare a un aereo che passa in cielo, ad alta quota. Forse mi rilassa proprio per questo, perché mi fa pensare a qualche fortunato viaggiatore che magari sta partendo per le ferie, per andare in qualche paese dove non è mai stato, in qualche posto nuovo e ha davanti a sé. Qualche giorno di scoperta, di relax e di benessere, si spera. L'unico problema di questo oggetto è che, come probabilmente noterete dai tagli, deve essere sbattuto frequentemente, per permettergli di vibrare e produrre questo suono molto, molto piacevole, a mio avviso. e allora nei tagli che faccio e che non vedete chiaramente, gli do una botta sul palmo della mano o sulle mie ginocchia, perché, nonostante sia un oggetto metallico, non fa male assolutamente, anzi, non che sia piacevole, ma non è doloroso o fastidioso e quindi, non è necessario usare il piccolo martelletto di cui viene fornito. Ma poiché so che questo oggetto è apprezzato, ma al tempo stesso anche un po' odiato, insomma, direi che non ha mezze misure di apprezzamento, potrebbe essere il caso di passare a quello successivo, che è un po' più complicato da individuare solo con l'aspetto. Eccolo qui. Si riesce già a capire forse un minimo la consistenza, ma il suono sicuramente vi aiuterà a capire meglio di cosa si tratta. Eccolo qui. Vi posso garantire che non è pioggia solida. nonostante il suono che produce, vi ricordi in modo pazzesco e quasi incredibile. la pioggerellina, fine, fine, che casca in primavera, anche se ormai non è più la nostra stagione. mentre esce questo video. Dipende poi da quando lo guarderete voi, ovviamente. ora ora invece sembra quando avete la schiuma nelle orecchie. magari quando esagerate un pochino con lo shampoo, o se fate un bagno ricco di schiuma e vi immergete un po'. questo è il suono che tendenzialmente sentirete nelle vostre orecchie. quindi concordate. ma sapete, anzi conoscerete forse, il mio immenso amore per la pioggia e quindi... continuerò a utilizzare questo oggetto in questo modo, anche se non sono veramente certo riuscirete a comprendere di cosa si tratta. però sono molto curioso. quindi in questo caso non voglio lasciarvi indizi, ma voglio anzi vedere se riuscite a individuarlo in autonomia o meno. passiamo al terzo trigger molto più semplice è questo oggetto io come in ogni video di ASMR al buio non ho la più pallida idea di quanto tempo stia passando perché non guardo il feedback essendo messo in questa posizione quindi non so quanto tempo io stia effettivamente dedicando a a ogni oggetto a ogni trigger quindi spero sempre che il tempo che dedico agli oggetti sia sia sufficiente per farveli apprezzare che devo anche dire che la posizione in cui sono per fare questa tipologia di video è questo prevede come forse avrete notato il microfono un po' più alto rispetto al solito per catturare meglio i suoni e al tempo stesso farvi vedere meglio gli oggetti che sto usando per produrli e non sono granchi abituato a stare così a lungo sollevando oggetti anche se relativamente leggeri ma nonostante il loro peso abbastanza indifferente devo dire che si sente un po' sulle braccia ma soprattutto nella schiena una certa contrattura per la posizione in cui sono quindi potrebbe darsi che durante il video mi vediate magari muovermi in modo un po' strano ma in realtà cerco solo di scranchirmi un po' mentre faccio del tapping su questi oggetti tapping in questo caso ovviamente nel mentre nel mentre ho anche spostato un po' il microfono perché se no mi sa che l'inquadratura era un po' schiacciata verso un lato e cerco anche di trattenere gli spadigli perché nonostante non sia ancora così tardi mentre registro questo video devo confessarvi che il suono che fa questo oggetto mi distende davvero follemente quattro oggetto della serata è un trigger che da solo non ho mai utilizzato e non da solo lo avete visto una volta sola sul canale e sono due oggetti non so in quanti riusciranno a comprendere di cosa si tratta secondo me però secondo me però fanno un suono particolare molto tenue sicuramente non so non so non so di cosa solo potrebbe essere soddisfacente per alcuni. Fatemi sapere, a prescindere dall'oggetto in uso, se vi piace o meno. Grazie a tutti. 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 Buon proseguimento. Ciao.